Perché secondo voi al giorno d'oggi è difficile aprirsi su queste cose qui? Chiaramente è una cosa molto personale, ci sta. Però perché tante volte le persone fanno fatica a dire queste cose qui? Cioè, credo che sia come uno ha un male fisico, ci sta che uno non sta bene mentalmente o ha bisogno di trovare una soluzione per trovare la sua via. Secondo voi qual è il motivo? Secondo me, prima di tutto, è sempre difficile ammettere le proprie debolezze. Non è mai così facile. Non è mai un esporsi agli altri e non sai mai come può reagire la persona davanti a te. E dall'altra parte magari è anche colpa, tanta colpa, se parliamo di voi atleti, di noi allenatori. Perché quasi mai noi chiediamo al nostro atleta come stai, ma è realmente come stai. Per capire come stai veramente, anche fuori dal campo, non solo come stai fisicamente.